Seduta no per la Borsa di Milano, che fa peggio degli altri mercati europei, chiusa a Francoforte. In questa giornata negativa per Piazza Affari si muovono sulla parità Brembo e Ferragamo, i più forti ribassi si verificano su Mediaset, che continua la seduta in calo del 2,73%. L'oro è sostanzialmente stabile su 1.279,82 dollari l'oncia. Tra i dati macroeconomici più importanti, nel mese di maggio cresce l'economia dell'eurozona a ritmo più rapido da sei anni, in sintonia con la crescita del settore terziario. Nel pomeriggio sono attesi gli ordini industriali e il dato sulla produttività del lavoro dagli USA. Attesa una partenza stabile per Wall Street, in particolare il future sull'S&P 500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA, che scambia 5.879,75 punti.